Allora, dati, 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 informazioni, scambio di informazioni, cloud, tutto in digitale, tutto molto bello, tutto molto, come dire, complicato e sfidante, tutto molto bisognoso di regia istituzionale, ma anche di regia operativa e di supporto tecnico. Dei Capitani, i municipi, a Gruppo Engineering, siete una presenza sempre più centrale, anche geograficamente, ho visto di là negli stand centrali, diciamo così, nel mondo dei comuni e delle assemblee ANCI, quali sono i filoni operativamente più interessanti in questa fase appunto di frontiera, come diceva il titolo della prima tavola rotonda. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Ma allora, noi siamo un'azienda che ha scelto da diversi anni di imboccare il difficile percorso del partenariato tra privati e pubblici e quindi anche lo strumento contrattuale del partenariato pubblico-privato. Questo ci pone in una condizione, o quantomeno questo è il nostro impegno, di cercare di capire quali sono le esigenze, le problematiche dei comuni, dell'amministrazione locale, guardando anche un po' avanti. Il tema portante, credo, di questo panel è le infrastrutture, le infrastrutture digitali. Vorrei partire da qui, ma anche dallo spunto che prendo con grande piacere di una parte di intervento della Ministra Calderone, quando dice che la piattaforma non guarda il presente, ma guarda il futuro, guarda l'evoluzione dei prossimi cinque anni. Mi soffermo un attimo su questo concetto per fare un ragionamento. Credo che oggi parlare dell'importanza delle infrastrutture sia superfluo, nel senso che tutti i sindaci e tutti gli operatori di questo mondo sono assolutamente consapevoli dell'importanza delle infrastrutture. E anche, tutto sommato, credo sia abbastanza superfluo ormai parlare di infrastrutture digitali per l'Unione del Paese. Magari correggerei con infrastrutture digitalizzate. Siamo in una città che ha dovuto affrontare il trauma del Ponte Morandi, da cui è rinata però un'infrastruttura digitalizzata, un'infrastruttura intelligente, un ponte sensorizzato che, siamo certi, impedirà replicarsi di sciagure di quel tipo. Quindi questo è abbastanza scontato. Qual è, secondo me, la sfida che i Comuni hanno davanti e ne sono consapevoli? Programmare l'evoluzione delle infrastrutture, e parliamo di infrastrutture di mobilità, di reti, ma anche di infrastrutture un po' più immateriali. e programmarle in funzione non solo del presente, dei bisogni presenti, ma di quelle che saranno, appunto, le evoluzioni future. C'è un interessante tema, che è quello di come evolveranno le città. Saranno Ocse, Banca Mondiale, eccetera. Dicono che in 25 anni, un miliardo e mezzo o tre miliardi, a seconda delle stime, di persone in più vivranno nelle città. Ma il punto è, primo, in quali città? Nelle stesse di oggi. Oppure il fenomeno della gentrificazione, che fino ad ora ha seguito determinati driver, avrà dei driver diversi? Oggi assistiamo al cambio delle modalità di lavoro legato allo smart working, alla ricerca di una maggiore sostenibilità, compatibilità, vita-lavoro. Quindi credo che gli amministratori hanno davanti il tema di capire come saranno le evoluzioni delle dinamiche sociali e economiche, come evolveranno le città, quali saranno le città in grado di attrarre persone e sulla base di quali driver. Bene, come la tecnologia può venire in soccorso di questo sforzo? Si parla molto di analisi dei dati, di data-driven governance, cioè prendere decisioni sulla base dei dati. Oggi la tecnologia mette a disposizione, lo chiamo uno strumento, ma in realtà non è uno strumento, ma diciamo, lasciamo questo termine, che è il gemello digitale. Lo dico in italiano, volutamente non in inglese, anche se ovviamente c'è il corrispondente termine inglese. Che è una cosa, credo, molto interessante, che molti comuni italiani, ovviamente non italiani, cito Milano, Torino, Bologna, hanno già attuato, ma naturalmente ne dimentico qualcuno, quindi non voglio in questo far torto nessuno. Che cos'è? È di fatto la ricostruzione in digitale della città o di una parte di essa, di un quartiere o di una sola infrastruttura, acquisendo dati che possono provenire da banche dati esistenti, da sensori che sono sul territorio, creando un modello vivo, sostanzialmente, in tempo reale, che consente intanto di conoscere bene la realtà. E questo è uno dei problemi che gli amministratori e i funzionari dei comuni si trovano a fronteggiare tutti i giorni. Dove sono le reti? Dove sono le nostre infrastrutture? Come funzionano? Quali sono i punti di criticità? E poi di programmarne l'evoluzione, costruendo delle simulazioni. E in questo caso, ovviamente, lo strumento, tra virgolette, incorpora anche intelligenza artificiale, ormai c'è dappertutto, e quindi comincia a prevedere, sulla base dell'analisi dei dati, di quello che potrebbe succedere, in base a una serie di scenari, nei prossimi uno, due, tre, cinque anni. La Ministra poneva l'orizzonte i cinque anni, ma forse, nel caso delle città, l'orizzonte deve essere persino più lungo. E a questo punto intervenire, orientando gli investimenti e le scelte sulle infrastrutture, sulla base di quello che appunto non è il presente, ma il futuro. Cercando anche un po' di anticipare quelli che saranno i bisogni della collettività. Chiudo cercando di evidenziare il nesso di questo ragionamento con il tema dell'unione del Paese, che, diciamo, ha molti significati, io coglierei quello della coesione. Ecco, pensare di riuscire a costruire delle città e l'evoluzione delle città attraverso la loro infrastruttura, intercettando i bisogni, anche futuri, delle diverse fasce sociali, demografiche, economiche, che andranno a popolare e a gentrificare quella città, significa creare ambienti più accoglienti per tutte le tipologie di persone e quindi creare coesione, attrattività non, diciamo, parziale o di alcune, diciamo, porzioni della nostra società, ma complessiva. In questo credo che la tecnologia, che è sempre uno strumento per migliorare la vita di noi cittadini, e questo è il mondo, diciamo, delle smart city, di cui siamo partecipi, questo sia uno strumento estremamente utile o almeno noi riteniamo tale. Grazie, grazie dei capitani.